Le piccole e medie imprese molisane hanno bisogno di aprirsi all'esterno i mercati nazionali ed internazionali. Un percorso non sempre possibile, non sempre facile da realizzare. Da qui l'idea di un gruppo di giovani intraprendenti presentate nel corso dell'incontro organizzato alla Camera di Commercio di Campobasso. È un'iniziativa che nasce da un'idea della Camera di Commercio e del centro italiano femminile. Si chiama Manoverra Italia. È un logo che abbiamo coniato noi. Ed è una start-up di un'impresa creativa che cercherà di rivalutare, rivalorizzare i nostri prodotti territoriali e locali in un modo particolare. Qual è questo modo? Noi siamo quattro squadre di intervento e lavoriamo in quattro rami di azione. Cerchiamo queste persone, quindi i nostri settori sono quelli dell'arte e dell'artigianato, dei servizi e dell'enogastronomia. E abbiamo fatto anche delle sperimentazioni già per esportare questo nostro sapere, questi nostri sapori, un po' tutto quello che fa parte del nostro patrimonio. Vengo dalla Tunisia e per il fatto che io ho fatto l'interprete e mediatore interculturale, quindi la sapienza delle lingue e la diversità anche culturale, mi ha spinto a entrare in questo percorso, in questo seminario, nella comunicazione internazionale, cioè trovare un modo di comunicare inoltre le confini italiane, quindi all'estero. A quali mercati vi rivolgete in particolare? Ma noi, la nostra idea, per il momento operiamo come lingue, quindi francese, l'arabo, l'inglese e poi vogliamo anche sparare e andare inoltre in tutto il mondo, perché no? A proposito dei paesi arabi, secondo lei c'è una possibilità per le aziende molisane trovare uno sbocco anche su quel versante? Io penso che la possibilità c'è, ma il lavoro che si deve fare è innanzitutto un lavoro di comunicazione, cioè non possiamo nel senso comunicare il prodotto senza rapportarsi un po' alla cultura araba, quindi dobbiamo creare un po' il bisogno nei paesi arabi di questo prodotto che abbiamo, comunicando questo tramite rapportarsi alla loro cultura e usare gli strumenti giusti per fare questa comunicazione.